Mister, oggi quello che poteva girare storto è girato storto L'infortunio a Rea dopo pochi minuti Quel gol preso da Bertuccelli Il raddoppio alla fine sono due episodi Il gol del Rapallo e la riscossa del Ventimiglia Forse è arrivata troppo tardi, a pochi minuti dalla fine con rigore di Dabbi Sì, partite così difficili L'avevo spiegato ragazzi, bisogna sbagliare il meno possibile Abbiamo preso due gol un po' stupidi Due episodi, comunque non è stata una grandissima partita Da parte di due squadre del Vudis, troppo importanti in questa finale Abbiamo accorciato quel gol a uno, potevamo anche parecciarlo Poi non capisco il gol annullato a dati sul zero La fatta della scuola è bellissima Gli episodi fanno la differenza Adesso comunque, con la possibilità, andiamo giocando le nostre chance Il punto è possibile, andiamo a giocare l'ultimo A livello di ciò che stiamo Quindi siamo comunque carichi L'altra finale da fare la giù, ci proviamo fino alla fine L'importante è non volare niente Quindi siamo pronti Andiamo a giocare la nostra chance Bisogna vincere con due gol di scarto alla pallo Per portare a casa questa salvezza Però si diceva anche subito nell'immediato post partita Il Ventimiglia ci crederà fino in fondo Siamo obbligati Il nostro DNA è a mollare braio Oggi è in realtà così Di recuperare Di fare questi due gol L'interno è lì giù E' un marcio Di modo Vediamo insomma la fine partita D'unica prossima Però sono convinto che i ragazzi dareanno tutto fino alla fine Come hanno fatto oggi Hanno contato Malgrado siamo stati sfortunati Io ci credo Io ci credo fino alla fine Il mio carattere Non me lo fa niente Fino al 96 Alla parola Ci crediamo